Ieri è stata una bella sessione di VT Culture, abbiamo giocato una partita dopo un bel po' che non ci giocavo. In realtà ho comprato anche l'espansione Tuscany Essential Edition, tutta la versione Essential Edition, non la versione precedente, originale, che contiene più o meno tutto quello che conteneva la versione originale, tranne un paio di mini espansioni. Non parla più dell'aspetto Legacy o Pseudo Legacy che aveva, ma insomma sono una serie di espansioni molto carine. Per giocare con mia moglie però non abbiamo utilizzato le espansioni, siamo andati direttamente al gioco base, che ha incredibili decisioni già di suo. Abbiamo incluso dentro il masso dei visitatori estivi e invernali tutte le carte aggiuntive che vengono dal design di Uwe Rosenberg con la Stonemaier per una mini espansione uscita qualche mese fa. Ed è stato divertentissimo. Penso che quello che deve capire un giocatore diciamo meno abituato a questi dubbi di gioie di tavolo è quello che bisogna essere pronti a utilizzare le carte molto spesso, presto e quando serve. Perché i visitatori cambiano veramente il risultato delle tue azioni e danno dei bonus che altrimenti non ti permetterebbero di vincere. Come dicevo la parte più interessante del gioco poi sono le carte e in particolare i visitatori che rendono il gioco variabile in ogni singola partita. Volevo prendere degli esempi a caso dal mazzo per farvi un'idea, per darvi un'idea di come può cambiare una partita. Ci sono i punti vittorie che vengono dati sicuramente principalmente dal completare degli ordini dei vini. Ma i punti possono essere presi anche in molti modi tramite queste carte. Cioè per esempio una carta che si chiama wholesale buyer, un compratore all'ingrosso. E dice se utilizzi il tuo lavoratore, il tuo ultimo lavoratore su questa carta puoi guadagnare anche dei punti vittoria. E pescare un altro ordine che è quello rappresentato da questo compratore. Un'altra carta che è una giovane che beve semplicemente un succo d'uva e ti fa guadagnare delle monete e anche dei punti vittoria. Se si scartano diciamo delle uve invece che utilizzarle per dei vini per dare appunto questo succo d'uva. Ci sta un tocco sempre molto tematico a queste carte per quanto possibile che rende anche più divertente giocarle. Ma è sicuramente la variabilità del modo in cui si possono ottenere i punti durante il gioco che rende queste carte il cuore diciamo del divertimento di Viticulture. Questa almeno è la mia impressione. Il gioco comunque appunto come struttura principale poi permette di prendere delle uve, piantarle nel proprio terreno e fare un po' il vignaiolo vendemmiare, passare attraverso la vendemmia e generare quindi dei vini bianchi o rossi, rosati o frizzanti a seconda delle uve che si hanno raccolto. Il gioco ovviamente semplifica molto queste meccaniche ma di base dà la sensazione proprio di essere un vignaiolo nella Toscana. E' molto interessante e molto soprattutto molto divertente. Questo è tutto poi spero vi sia piaciuta questa mini descrizione della mia esperienza con Viticulture. Un gioco assolutamente da non perdere. Se vi interessa vedere altri video potete commentare sotto e fatemi sapere se vi è piaciuto. Mettete like, mettete non like se non vi è piaciuto e spero di vedervi nel prossimo video.